Buonasera ben ritrovati in apertura facciamo velocemente il punto sulla situazione covid in Piemonte che resta stabile sia sul fronte contagi sia per quanto riguarda i ricoveri situazione nella norma sia Novara sia nel resto del territorio regionale intanto prosegue velocemente la campagna vaccinale si sta somministrando la quarta dose del vaccino agli ultraottantenni agli ospiti delle case di riposo e agli ultra 65 anni con particolari patologie questo per quanto riguarda la situazione covid ed ora passiamo alla cronaca perché un tir con targa russa è stato dato alle fiamme nella notte di Pasqua a San Pietro Mosezzo alle porte di Novara a raccontare l'episodio è stato un camionista di 46 anni di nazionalità bielorussa che ha chiamato subito i carabinieri e che si è anche ferito nel tentativo di spegnere l'incendio le fiamme divampate intorno alle 22 della vigilia di Pasqua sarebbero di natura dolosa vicino all'automezzo è stata trovata una bottiglia incendiaria poco prima il camionista avrebbe avuto un alterco con un automobilista di nazionalità ucraina ed ora a proposito di guerra in ucraina non si ferma la raccolta fondi della fondazione valsesia per la caritas di Novara a favore dei profughi la sfida è quella di preparare i bambini all'inizio del nuovo anno scolastico sentiamo fondazione valsesia insieme alla caritas di Novara si è fatta promotore di una raccolta fondi per l'ucraina che è andata e sta andando molto bene con noi la presidente laura cerra grande risposta dei valsesiani come come sempre siamo stati travolti dalla generosità dei valsesiani siamo attualmente abbiamo superato i 125 mila euro di raccolta che verranno utilizzati stiamo già utilizzando per l'acquisto di buoni spesa in collaborazione con caritas e soprattutto con i servizi sociali dell'unione montana che è del casa che ci coordinano e stiamo aiutando le scuole per organizzare dei corsi di alfabetizzazione per i ragazzi che si sono inseriti e poi l'intenzione è lavorare poi anche con eufemia per dei corsi di alfabetizzazione per gli adulti quindi insomma tanto lavoro da fare ma anche la certezza di essere supportati questo sì sicuramente ed è soprattutto un lavoro a lungo termine perché dobbiamo guardare al prossimo autunno quando questi ragazzi verranno inseriti nelle scuole e anche il lavoro per queste famiglie che sono arrivate che veramente ci ci distrugge moralmente questa però cerchiamo di dare il massimo ed ora a Borgosesia dove è stato da poco eletto il sindaco dei ragazzi si chiama Chiara fa la terza media è proprio come il suo nome ha le idee molto chiare è stata eletta a seguito di una campagna elettorale rapida ma molto partecipata la sindaca dei ragazzi di Borgosesia si tratta di Chiara Rossi della classe terza di della scuola media cittadina seconda classificata un'altra ragazzina Maria Vittoria Roscelli che però è stata superata poi in una seconda votazione ad hoc per il vice sindaco da Giovanni Bevilacqua anche lui di terza di che quale affiancherà dunque Chiara Rossi nella realizzazione del progetto felicità futura scelto dai ragazzi fra i tanti proposti un progetto che riunisce in sé la spensieratezza del divertirsi insieme alla partecipazione civile dell'intento che è quello di raccogliere fondi per i profughi ucraini Chiara compiglio sicuro ha ringraziato sia il vice sindaco della città che ha portato a lei alla fascia tricolore che tutti i compagni che l'hanno votata assicurando che ascolterà le istanze di tutti e si impegnerà per essere un sindaco equo e concreto il progetto felicità futura che i ragazzi vorranno realizzare sarà una grande festa di fine anno con giochi all'aperto e al chiuso ma anche con una finalità solidale che è quella di raccogliere fondi per i profughi ucraini accolti a borgosesia a maggio a novara torna l'iniziativa agenti pulenti sentiamo i dettagli la pausa è stata un pochino pesante per noi e per i bambini soprattutto perché manca la possibilità di interagire e ancora oggi abbiamo quando adesso abbiamo ricominciato e speriamo di appunto di portare avanti per bene questo questa attività vediamo che ci sono alcune alcuni problemi perché i bambini non possono ancora interagire tra loro troppo però diciamo è importante che si inizi comunque questo percorso il numero purtroppo di ragazzi che vengono coinvolti anche qui subisce una limitazione per i problemi sanitari però non ci facciamo scoraggiare siamo stati sempre in contatto con i dirigenti scolastici che sono i responsabili anche da un punto di vista legale della salute dei ragazzi e alcuni ci hanno incoraggiato dicendo dobbiamo guardare al di là della nostra punta delle scarpe questa cosa mi ha molto colpito e mi ha aiutato a perseverare e portare avanti questa attività ed ora voltiamo pagina e parliamo del progetto guidiamo sicuro iniziata nelle settimane scorse promosso da ASSA e confartigianato il percorso di formazione guidiamo sicuro ed ecosostenibile nell'ambito dell'iniziativa formativa guidiamo sicuro del comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori confartigianato formazione e ASSA Novara promuovono un corso di formazione rivolto agli autisti di ASSA che possono così partecipare gratuitamente alla formazione dei conducenti in tema di guida sicura ed ecosostenibile per l'autotrasporto ASSA sta lavorando non solo per migliorare le proprie prestazioni dal punto di vista della sostenibilità ma anche della sicurezza non dimentichiamo infatti che gli operatori dell'azienda che si occupa della raccolta rifiuti e non solo sono spesso chiamati ad intervenire in situazioni particolari che richiedono attenzione e impegno il corso proposto grazie al sostegno di confartigianato arricchirà ulteriormente le competenze dei lavoratori dell'azienda garantendo loro e garantendo all'utenza una migliore sicurezza rispetto dell'ambiente e sicurezza sono dunque i macro obiettivi di guidiamo sicuro la campagna a cui ASSA ha aderito a pieno titolo consolidando la sinergica collaborazione con confartigianato si dà l'opportunità agli autisti di accrescere competenze tecniche di guida più efficienti che permetteranno di ridurre consumi ed emissioni a favore di una maggiore sostenibilità ambientale oltre che di prevenire incidenti stradali o prevenire i pericoli legati alla strada e promuovere così una corretta manutenzione del veicolo i partecipanti sono una trentina e la capacità di un migliore utilizzo dei mezzi che acquisiranno nella pratica garantirà minori emissioni di CO2 ed ora andiamo a Trecate dove sabato scorso con il patrocinio dell'ATL della provincia di Novara e del Consiglio regionale del Piemonte è stata organizzata la seconda edizione della giornata DECO dedicata alle eccellenze trecatesi quella di sabato è stata l'occasione per promuovere il marchio DECO e i prodotti del territorio valorizzando così la tradizione e il patrimonio storico e culturale del comune di Trecate per l'occasione è stato anche allestito un punto espositivo dei prodotti nei locali comunali sotto i portici di Piazza Cavour c'è anche un punto espositivo permanente che si trova in via 20 settembre al civico numero 6 le aziende della città si sono inoltre resi disponibili a visite guidate per sette giorni a partire da oggi martedì 19 alla scoperta dei prodotti tipici locali per scoprire le eccellenze trecatesi e tutto quello che riguarda i prodotti DECO è possibile visitare la pagina Facebook sempre aggiornata DECO denominazione comunale Trecate ed ora ci occupiamo di tutt'altro parliamo del 25 aprile con la lingua dei segni in vista delle celebrazioni ufficiali del 25 aprile 2022 si propone a tutta la cittadinanza degli incontri per imparare a cantare con le mani l'inno nazionale e bella ciao gli incontri si terranno il 20 aprile dalle 15 alle 16 da remoto e il 23 aprile dalle 10 alle 11 presso il circolo operaio agricolo della Bicocca in via Sforzesca 99 a Novara la sensibilizzazione alla lingua dei segni italiana la LIS attraverso i valori della musica inclusiva è uno dei progetti presentati anche alle scuole cittadine nel progetto hashtag Ampi Novara per la scuola 2021-2022 ideatrice responsabile dell'iniziativa Stefania Natalicchio docente presso l'istituto comprensivo Ritalevi Montalcini di Novara assistente alla comunicazione, docente di lingua dei segni italiana e interprete del coro Manos Blancas l'obiettivo è quello di dare a tutti la possibilità di gustare la musica attraverso vibrazioni visive e restituirle non solo a un pubblico di persone sorde ma anche a tutti coloro che si vogliono avvicinare ad un mondo nuovo la LIS di vera inclusione umana e sociale ed ora parliamo di sport e scuola dopo quasi due anni di stop a maggio tornano i campionati studenteschi il 31 di marzo è finita l'emergenza sanitaria finalmente si riprende con le competizioni con le gare in presenza quindi quando sono i prossimi appuntamenti? i prossimi appuntamenti dei campionati studenteschi sono previsti per il 10 e il 12 di maggio i ragazzi delle varie rappresentative scolastiche si incontreranno per un confronto in due discipline l'atletica leggera e il badminton ovvero una disciplina individuale e uno sport di squadra la novità in questo contesto sta nel fatto che per la prima volta vengono organizzate e verranno realizzate due attività in contemporanea si terranno presso il campo sportivo il campo di atletica leggera di Viale Kennedy a Novara e mentre sulla pista e nelle varie pedane gli studenti concorreranno per le varie discipline dell'atletica la corsa di velocità, i millimetri i salti in alto e lungo il lancio del vortex e il lancio del peso all'interno della zona verde verranno allestiti dei mini campi di badminton e le rappresentative delle scuole si confronteranno in un torneo che così come per l'atletica leggera potrà individuare le rappresentative che poi porteranno la nostra provincia a presenziare alle gare regionali di fine maggio sono riservati i campionati studenteschi alle scuole di primo grado e di secondo grado per quanto riguarda la parte della scuola primaria e della scuola elementare ci sono delle attività essenzialmente di istituto Cambiamo argomento e parliamo dei prossimi appuntamenti dell'associazione Nonno Boy I prossimi eventi di Nonno Boy Associazione a partire proprio da questo mese Sì, partiamo il 22 di aprile in collaborazione con Avis Podismo Novara e Badia che corre a San Nazaro Sese facciamo una serale di circa 7 chilometri dove il ricavato verrà parte a noi e parte a un'altra Ollus dove sarà possibile anche mangiare una bella paniscia con un bicchiere di vino quindi vi invito a vedere l'evento per capire cosa fa corriamo e mangiamo giusto per il gusto di stare anche assieme A che ora c'è il ritrovo e dove? Allora, San Nazaro Sese presso la cascina Tensi il ritrovo sarà alle 18.15 per iscrizione e poi corriamo e alla fine della gara mangiamo Chilometri? Chilometri circa 7 quindi una bella serale per correre in allegria senza problemi di tempi di camminatori e runner vi aspettiamo numerosi come al solito Restiamo in tema di sport perché nei giorni scorsi è stata creata la nuova associazione ASD Veterani Ok Novara Sentiamo Finalmente si torna in pista con una squadra di grandissimi Ti dico la verità ero in pensione avevo staccato completamente per alcune vicissitudini comunque stavo cercando di acclimatarmi e poi ricevo la telefonata la telefonata di Cesare la telefonata di Massimo Mariotti la telefonata di un altro e quindi a loro non so dire di no all'hockey neanche tanto meno quindi proviamo cominciamo con questa avventura Il mio ruolo dovrebbe essere un po' un factotum il meccanico il responsabile del vestiario quello che ho sempre fatto praticamente nell'hockey Novara io sono cresciuto qua dal 55 che frequento l'hockey io ho fatto di tutto ho fatto giocatore dirigente tifoso tutto E che cosa si prova a ritornare in campo con dei grandi campioni e con gli amici di sempre alla fine? Beh, gli amici soprattutto Cesare mi ha tirato in ballo dai vieni dai vieni dai vieni e ho ricominciato a rimettermi in pista perché io sono uno di quelli che purtroppo dopo la morte di Stefano che era un mio amico fraterno abbiamo disertato l'hockey perché non riuscivamo più ad andare poi abbiamo cercato con il roller di fare qualcosa ma poi la cosa è andata sciamando adesso ci torniamo con tutti i nostri ragazzi se vogliamo per affruttare questa nuova avventura ecco e divertirci ancora abbiamo ancora voglia di divertirci giocherà? no, non credo però non si sa mai mi alleno vediamo cosa ne pensa di questa nuova squadra? una bella iniziativa mi auguro che vada tutto in porto cioè che vada in porto penso che le persone che sono addette possono fare molto bene è tutto grazie per essere stati con noi buona serata con i nostri programmi